E' chiaro che uno sportivo che ha già una predisposizione, una propensione a rispondere in modo ansioso alle sue performance, al suo lavoro, al suo modo di gestire lo sport, deve essere valutato diversamente rispetto a una persona che arriva al gioco d'azzardo con le conseguenze poi di un episodio depressivo legato ai sensi di colpa di aver fatto qualcosa che gli ha rovinato la carriera o che pur può avere reso difficile la vita della famiglia, magari per problemi economici. Il professor Massimo Clerici insegna psichiatria all'Università degli Studi di Milano Bicocca e dirige il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale San Gerardo di Monza. Sarà lui a spiegarci in questo episodio le ragioni per cui la ludopatia, cioè la dipendenza dal gioco d'azzardo, è in crescita soprattutto fra i più giovani e perché colpisce in modo particolare gli sportivi professionisti come i calciatori Niccolò Fagioli della Juventus, Sandro Tonali del Newcastle e Niccolò Zaniolo della Stonvilla, finiti sotto inchiesta sportiva e penale a causa di scommesse. E siccome un ruolo importante è svolto dalla tecnologia, Gianmaria Canè della redazione di Login, il supplemento mensile del Corriere che si occupa appunto di tecnologia e innovazione, ci spiegherà perché chi scommette, soprattutto illegalmente, lo fa usando determinate app. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 23 ottobre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Gianmaria Canè, tu ti sei occupato di come Niccolò Fagioli interagiva con i suoi allibratori. Lo stesso centrocampista della Juventus ha ammesso di aver usato l'app Trima per farlo. Ci spieghi che cos'è? Trima è l'app di messaggistica con cui Fagioli, dietro il nome di XFarenz, ha ammesso di aver ricevuto le schedine delle giocate illegali e con la quale manteneva i rapporti con i suoi allibratori virtuali. La convinzione del giovanissimo calciatore piacentino della Juventus è che quel sistema di comunicazione gli garantisse il più assoluto anonimato e che impedisse di tracciare le giocate. Effettivamente questa app è una di quelle che garantiscono gli standard di sicurezza più alti del settore. È del tutto anonima in fase di sottoscrizione e non lascia traccia dei messaggi se non nei telefoni di chi li ha inviati o ricevuti. Con una battuta si può dire che tra i tanti errori che ha fatto, Fagioli non ha sbagliato la scelta dell'app con cui rovinarsi. Ma come funziona Trima? Trima è un'app di messaggistica simile a WhatsApp, dalla quale però si distingue per una serie di caratteristiche. Innanzitutto è nata nel 2012 in Svizzera dove mantiene la sede e non negli USA, cosa che vedremo in seguito ha la sua importanza. In più la criptografia, cioè il sistema di segretezza su cui è basata, è simile a quella di WhatsApp ma è molto più rigida. Tradotto dal linguaggio tecnico, si parla di criptografia end-to-end, significa che i messaggi sono codificati in maniera che nessun server intermediario possa leggere la conversazione. E la chiave per decifrare i messaggi è generata solo nell'applicazione che li riceve, dove un codice di cifre si trasforma in un testo scritto. La particolarità di Trima è che la sua criptografia è basata su un numero di codici di criptazione tra i più alti di questa categoria di app. In più, l'app è assolutamente anonima e non è chiesto nessun dato che permetta di risalire all'utente. Attenzione, questo non significa che WhatsApp non sia sicura. Il suo protocollo è simile a quello di Trima. Semplicemente non è nata per rendere anonimi i suoi utenti. Quanto è diffusa questa app? Secondo i dati forniti dall'azienda, conta attualmente circa 10 milioni di utenti, soprattutto concentrati tra Germania, Austria e Svizzera. Per fare un paragone, quelli di WhatsApp sono oltre 2 miliardi, mentre sono 50 milioni quelli di Signal, l'app di messaggistica più sicura, secondo Edward Snowden, l'ex funzionario dell'NSI che rese noto il programma di sorveglianza clandestina dell'agenzia americana e che viene usata anche dai dipendenti dell'Unione Europea. Si tratta quindi di un prodotto di nicchia, anche perché, al contrario delle principali concorrenti, non è gratuita. Per scaricarla dai vari store occorrono l'equivalente di 4 franchi svizzeri, quindi 3,80 euro. Un boom di connessione si ebbe quando nel 2014 Facebook comprò WhatsApp e nel nord Europa si diffusero i timori di violazioni della privacy. Ma l'occasione in cui più si è parlato di Trima è stata un'altra, se non sbaglio. L'app fece parlare di sé quando l'esercito svizzero diffuse la notizia che avrebbe usato esclusivamente Trima per le sue comunicazioni ufficiali. Le ragioni erano essenzialmente tre. Una, commerciale e di bandiera, nel senso che Trima è un'app svizzera. Una, legata al fatto che i server erano basati in svizzera e quindi più facilmente controllabili dal punto di vista della sicurezza. E terzo, non erano sottoposti alle norme che, in violazione del testo unico europeo per la protezione dei dati personali, consentono alle autorità giudiziarie statunitense di appropriarsi a fini di sicurezza nazionale dei dati veicolati attraverso app simili. Un problema quindi che esiste per le app che hanno i loro server basati negli Stati Uniti. Questo non significa che i pochi, 147 mila sono, soldati svizzeri non hanno facoltà di installare e usare altri strumenti di comunicazione sui loro telefoni, ma solo che le informazioni di servizio circolano solo via Trima. Le scommesse invece circolano ovunque, per cui ho chiesto allo psichiatra ed esperto di ludopatia Massimo Clerici, che avete ascoltato all'inizio, quanto è cresciuto e come è cambiato il fenomeno negli ultimi anni. Possiamo sicuramente dire che in questi ultimi anni le dipendenze comportamentali e in particolare la ludopatia, o meglio quello che gli psichiatri definiscono come disturbo del gioco d'azzardo, ha avuto un incremento generalizzato. Questo ha a tal punto segnato la diagnostica in ambito psicologico e psichiatrico da fare entrare nel manuale che gli psichiatri utilizzano per la diagnosi questo tipo di disturbo, cosa che prima non era a disposizione. È una indicazione, questa è importante, sia dal punto di vista epidemiologico, mediamente il disturbo del gioco d'azzardo copriva tra lo 0,4 e lo 0,8 della popolazione generale, questi soprattutto sono studi americani e internazionali, perché come sempre in Italia abbiamo qualche difficoltà alla rilevazione corretta del dato, e la dimostrazione importante di questa crescita riguarda il fatto che stiamo superando l'uno, l'uno e mezzo, con delle differenze ovviamente che come sempre sono legate alle fasce di età e sono legate anche al genere. Che cosa cambia? I dati sono sostanzialmente dimezzati rispetto al genere maschile, che è quello prevalente, e questo dà un'indicazione come buona parte dei disturbi correlati all'uso delle sostanze, della cosiddetta tossicodipendenza, ma anche buona parte delle dipendenze comportamentali, siano un disturbo prevalentemente maschile o ancora in stragrande maggioranza maschile. E per le fasce d'età invece? C'è un abbassamento costante e si lega a due ordini di problemi. Da un lato l'abbassamento generale di tutte le problematiche che riguardano la dipendenza. Questo è un dato oggettivo che forse potremmo separare soltanto dall'alcol, che ha un consumo generalizzato in tutte le fasce d'età, ma per quanto riguarda le altre sostanze cosiddette illegali c'è un abbassamento dell'età. Altrettanto è ancora più evidente la modificazione in corso per quanto riguarda le dipendenze comportamentali. Il gioco d'azzardo in primis, ma soprattutto il gaming online e anche altre forme di dipendenza comportamentale che non sono ancora riconosciute nei nostri manuali diagnostici e statistici, ma che sono molto importanti come le dipendenze legate a tutti i rinforzi di gratificazione comportamentale e potremmo tra queste esemplificare le dipendenze sessuali e le dipendenze sportive. Sul Corriere del 20 ottobre, Marco Bonarigo ha scritto che, stando ai risultati di oltre 500 studi diversi, rielaborati da istituti di ricerca di Stoccolma, Oxford e Londra, i calciatori ludopatici sono il 13% del totale, cioè un dato molto superiore alla media di cui lei parlava. Perché, a suo giudizio? Tutte le persone che hanno delle attività o dei comportamenti che tendono alla ripetitività e al rinforzo attraverso la gratificazione sono persone che hanno un maggiore rischio poi di mantenere questo comportamento stabile nel tempo e di riattualizzare quella che la ricerca chiama la memoria dell'addiction, cioè quella serie di processi legati al funzionamento del nostro cervello, ai neurotrasmettitori e alcune aree specifiche del cervello che sono legate alla percezione del piacere, alla percezione della gratificazione, che tendono a rinforzare questi comportamenti e a riproporli nel tempo. Credo che gli sportivi siano paradigmaticamente una delle popolazioni che, grazie all'allenamento, grazie alla fortissima concentrazione psicologica su quello che è il raggiungimento della performance o il miglioramento della performance, hanno una maggiore facilità di riproporre questi comportamenti gratificatori e a seguito di questi di avere inevitabilmente anche un maggior rischio di essere legati al gioco d'azzardo, in questo caso, o altre forme di dipendenza comportamentale. In che cosa consiste il percorso di recupero? Il percorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello di tutte le dipendenze, quindi si muove secondo due regole fondamentali. Il modello motivazionale che riesce, attraverso un lavoro psicologico, a rendere consapevole il soggetto delle problematiche, perché, lo ricordo, siccome parliamo di problematiche legate al piacere, l'aspetto del riconoscimento del bisogno terapeutico non è tanto facile da raggiungere, soprattutto in relazione al fatto che, quando si recepisce fortemente la sensazione di piacere, si è stimolati a riproporre le condizioni che mettono in gioco la possibilità di trarre piacere dal comportamento. Il secondo livello sono evidentemente tutta una serie di tecniche psicoterapiche e di trattamenti farmacologici che possono modificare il comportamento attraverso il riconoscimento dei problemi e l'acquisizione di abilità nel controllo del comportamento stesso. E quei farmaci che sono in grado di ridurre il craving, cioè quella sensazione fortissima e che si ripropone costantemente di mettere in gioco di nuovo il comportamento che genera gratificazione o comunque di assumere la sostanza che genera la gratificazione. Perché il craving è così importante? Il craving è una sensazione diffusa e molto forte dal punto di vista psicobiologico perché ha delle matrici biologiche, quindi legate al funzionamento delle aree del piacere del nostro cervello e nel contempo ha un forte rinforzo motivazionale che è legato alla messa in campo del comportamento stesso. Quindi controlliamo il craving con una serie di farmaci che sono in grado di controllare la sensazione fortissima di generare piacere attraverso i comportamenti. Grazie al professor Massimo Clerici e a Gianmaria Canè. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily.rcs.it Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.